Ennesima rissa a Battipaglia, l'altra sera in pieno centro, a ridosso di Piazza Mendola. Due giovani hanno iniziato a litigare e ad ingiuriarsi. Il motivo del litigio sarebbe una ragazza contesa e poi uno dei due litiganti, non curante dei passanti, si è denudato ed ha mostrato i genitali all'altro. I due ragazzi si sono scagliati contro bottiglie di vetro e a dar malforte ai due rivali sono giunti altri giovani e si sono picchiati. La segnalazione dell'ennesima rissa in centro è giunta dai cittadini tramite i social con la pubblicazione di un post in cui è scritto, rissa con tanto di lancio di bottiglie ed esposizione di organi genitali per dimostrare la supremazia della specie. Intanto i cittadini chiedono maggiore presenza delle forze dell'ordine e controlli serrati. Pochi giorni fa, sempre in centro, a pochi passi dal municipio, uno straniero ha aggredito una donna ed ha minacciato i pensanti con un bastone. Nel frattempo lo straniero è stato picchiato da tre ragazzi che poi sono fuggiti via. È intervenuta la polizia e l'uomo è stato denunciato a piede libero. In merito a questo episodio la polizia sta tentando di individuare gli aggressori dello straniero e non sono ancora concluse le indagini.